ciao amici di SIX stengo sempre a precisare che questo non è un canale ufficiale e oggi volevo parlare del dilemma se convertire in wallet oppure lasciare in crediti tolto il fatto che non si può più richiedere perché era fino al 31 12 però adesso siamo nella fase dove uno se vuole può dare conferma e quindi tornare all'origine diciamo con il wallet oppure lasciare in crediti il dilemma sarà come sarà possibile spendere questo wallet io ho guardato e l'unico limite che sembra che ci sia è appunto il limite di utilizzo quindi 100 euro per gli utenti normali 200 per gli utenti orange e 300 per gli utenti orange premium stando adesso però il wallet non è utilizzabile praticamente per nessuna carta parte 5 o 6 più tutte le offerte sponsorizzate quindi è un dilemma perché uno si può trovare con tanto wallet che prima si poteva usare come metodo di pagamento normalissimo come poteva essere una carta di credito un bonifico amazon pay e poi non poter utilizzare quindi il mio consiglio è di aspettare comunque venerdì dove mister farà una nuova conference e magari tra una domanda dove ci gira attorno e l'altra darà qualche notizia in più sempre che poi quello che dice sia mantenuto perché ultimamente comincio a credere che non abbia ben chiaro neanche lui quello vuole fare e va aspetta il corso degli eventi perché molte carte che erano acquistabili col wallet tipo natura si italy che dai sono le più comuni hanno visto che erano le più acquistate e hanno tolto il wallet come metodo di pagamento quindi attendiamo fiduciosi sempre e forza 6